La città di Fano e il suo carnevale ancora protagonisti negli sport più importanti e seguiti dai grandi tifosi. Dopo il connubio nel mondo del calcio con l'Alma Juventus Fano, questa volta tocca alla pallavolo con la Giban Virtus. Infatti i giocatori porteranno il brand della città di Fano e del carnevale sulle loro magliette. I due loghi sono stati inseriti nella manica sinistra e sul retro della casacca, posizioni strategiche anche per la visibilità durante le dirette streaming. Oltre alle maglie saranno installati anche due striscioni a bordo campo, un metodo questo di promozione della città al di fuori dai confini territoriali. Sì, un sodalizio che si concretizza attraverso appunto la maglia, attraverso la posizione del brand, il city brand Fano sulle maglie della Virtus Fano e la posizione del marchio carnevale di Fano sulla maglia del libero. Quindi diciamo il connubio città di Fano, sport fanese che continua a crescere, connubio sport e turismo che valorizza appunto tutto ciò che di buono sta facendo sia la società sportiva, la Virtus Fano, ne ho promosso in A3 e il comune di Fano che tanto bene sta facendo per le società sportive fanesi. Le aspettative per questa nuova avventura sono di fare bene, di coinvolgere il più possibile sia i ragazzi nel settore giovanile sia gli spettatori, domenica le partite, cercare di crescere, di migliorarsi, di strutturarsi in A3 per poi piano piano provare a crescere e provare a fare qualcosina di più, ma quest'anno l'obiettivo è confermarsi, consolidarsi in categoria e poi piano piano crescere di anno in anno, tant'è che stiamo creando tante iniziative intorno appunto allo sport, tant'è che un binomio sport e turismo lo ritroviamo anche nel Fano International Volley Cup che faremo dal 27, 28 e 29 dicembre a Fano e dintorni con la presenza di più di 70 squadre giovanili che verranno qui a Fano. Un'altra iniziativa che per esempio promuoviamo oggi e anche Virtus Magazine, un giornalino settimanale che uscirà in occasione di tutte le partite della Virtus Fano sia in casa che fuori che appunto servirà per coinvolgere tutti gli addetti ai lavori per poterlo leggere e poterlo poi tenersi aggiornati sul mondo della Virtus Fano. Il contributo che l'amministrazione comunale ha destinato è di 15.000 euro.